Tocca a noi, tocca a milioni di italiani, tocca ai giovani, che nelle grandi sfide del passato ancora non c'era. È il momento di unirsi e di stare insieme. Ci vuole un po' di freschezza. Vogliamo sentire il gusto del cambiamento. Devono capire che noi non le beviamo tutte. Perché loro hanno la scorta e noi no? Possiamo cambiare le cose a partire da questo istante. Non possiamo rinunciare, non adesso. Oggi siamo davanti a una grande occasione. E la scelta è nelle nostre mani. Vuota Bavaria!